ah beh questa è la line up dell'Arnold Classic quindi penso che lamenterò un po' in tutti i video così da ricordarci i partecipanti io sono dell'idea che 10 partecipanti siano meglio dei 30 del Mister Olimpia decisamente un numero spropositato quindi un po' di aggiornamenti anzi un paio anche se sono tre il nostro Samsung Dauda come saprete mi piace tantissimo ne ho parlato davvero molto prima del Mister Olimpia 2022 si è piazzato sesto direi una posizione decisamente nobile mi piace molto è un bodybuilder che non ha punti deboli a livello fisico a livello di stretti muscolari a livello di completezza generale del fisico ma credo che il suo punto debole principale a questo punto sia la capacità di arrivare definito perché l'abbiamo visto in ottima condizione generale per quanto riguarda come detto proporzioni muscoli punti deboli praticamente inesistenti sia all'Arnold Classic dell'anno scorso è arrivato quarto e anche al Mister Olimpia 2022 è arrivato sesto come detto però io credo che abbia bisogno di più definizione perché c'è tutto il pacchetto un fisico davvero completissimo ma non c'è quella definizione coi tagli quella definizione affilata alla Dexter Jackson che infatti veniva soprannominato The Blade per questo perché era affidato come una lama di una spada e nonostante ci siano alcuni bei dettagli nei glutei nei femorali c'è bisogno di quel qualcosa in più io non vorrei che fosse uno di quei bodybuilder alla Akin Williams di questi bodybuilder che hanno difficoltà a definirsi tra l'altro Akin Williams cargerà anche lui all'Arnold Classic e io spero che non sia uno di questi bodybuilder qua davvero che sarà un'incompiuta per questo motivo però credo che farà bene all'Arnold Classic sono curioso di vederlo perché come ho detto tante volte mi piace davvero molto un altro bodybuilder tra l'altro un fan favorite quindi un favorito un preferito dei fan è Andrew Jack che anche lui sarà sul palco dell'Arnold Classic un esordio all'Arnold Classic quello a Ohio non all'Arnold Classic in generale perché ha vinto chiaramente l'Arnold Classic UK prima del Mister Olimpia si sta allenando con Chris Psycho Fitness Lewis che è il coach l'allenatore di Sean Roden di quando ha vinto il Mister Olimpia 2018 quindi uno che ne sa qualcosa di allenamenti dei professionisti e anche nel caso di Andrew Jack c'è bisogno di più definizione perché è vero che ha gareggiato al Mister Olimpia pare reduce dall'influenza però ha bisogno di più definizione e nonostante sia davvero bello da vedere un ottimo colpo d'occhio ha bisogno di migliorare il posing come ho già detto miliardi di volte e ha alcune parti carenti cioè i femorali è un posing così così non so quanti aggiustamenti possano fare sia Andrew che Samson due mesi dopo il Mister Olimpia però davvero sono curioso di vederli non so chi la spunterà tra i due perché Andrew è arrivato ottavo se non sbaglio al Mister Olimpia Samson sesto quindi se guardiamo la classifica diamo avvantaggiato Samson però siamo tutti d'accordo che sia un po' più bello da vedere Andrew ha un colpo d'occhio superiore anche per via dei dorsali che si allargano meglio secondo me però vediamo un po' entrambi devono lavorare sulla definizione e a questo punto a parità di fisico portato di pacchetto credo che la spunterà chi sarà più definito Dulcis in fundo uno dei nostri bovini preferiti insieme con Teleclansford Nick Walker sembra molto pericoloso in vista di questo Arnold Classic io penso che sia il favorito per la vittoria da parte di tutti me compreso sta portando una definizione che secondo me sta superiore rispetto a quella del Mister Olimpia gareggerà e fa bene a gareggiare perché 300.000 dollari non li vinci ogni giorno poi magari non vincerà però io credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia il favorito per la vittoria anche come detto in virtù del piazzamento al Mister Olimpia e in una storia ha fatto delle domande e gli hanno chiesto quale fosse la sua top 4 e la sua top 4 è stata in ordine me, cioè lui Nick Walker, Sean Clavida, Samson Dada e Andrew Jack e la cosa interessante è che ha lasciato fuori dalla top 4 Big Rami e io credo che un piazzamento fuori dalla top 4 di Big Rami sarebbe come una condanna a morte per Rami perché dopo aver perso il titolo del Mister Olimpia a dicembre uscire fuori dalla top 4 all'Arnold Classic dove comunque c'è una line-up meno profonda meno corposa rispetto al Mister Olimpia sarebbe davvero una caduta clamorosa una caduta totale e un addio praticamente un pensionamento quasi obbligato almeno basandoci sui risultati questo è quello che penso anch'io però il buon Nick come sempre è abbastanza sicuro di sé si vede vincitore e secondo me è una cosa ottima del carattere di Nick qui si sta allenando la Dragon Slayer di Flex Lewis tra l'altro da Flex le hanno un sacco di gente interessante anche Gordon Ryan che è il campione mondiale di Brazilian Jiu Jitsu sapete che io faccio Brazilian Jiu Jitsu e ho visto un video di Flex Lewis dove si allena con Gordon Ryan e dicevo una cosa che mi piace molto di Nick oltre al suo fisico come bodybuilder è anche la sua sicurezza di sé il suo carattere, il suo carisma perché a me piacciono molto i bodybuilder anche per il loro carattere infatti cioè perché mi piace Dorian Yates sia per il fisico ma anche per il suo tipo di personalità e così anche altri bodybuilder anche un Philips mi piace ovviamente per il fisico ma anche per il suo carattere perché è arrogante, è sicuro di sé e invece Nick non mi sembra una persona arrogante è molto sicuro di sé quando parla non mi pare che è trasù di arroganza non mi pare che è trasù di finta modestia o finta umiltà è molto sicuro di sé quando parla poi in genere fa seguire alle parole i risultati e in questo caso si pronostica vincitore e sono molto contento che sia così diretto così esplicito in tutto quello che dice e anche nell'annunziarsi vincitore quando dico chiaramente annunziare questa cosa qui lo dico per scherzare per chi non lo capisse comunque fatemi sapere che ne pensate di Andrew Jack di Samson Dauda di Nick Walker della probabile top 4 della top 5 se pensate che Nick vincerà se pensate che vincerà Sean Clarida e adesso come ci avviciniamo all'Arno Classic porterò più contenuti di aggiornamenti devo finire le analisi del Mr. Olimpia e mancano Hunter Labrada e Rafa Brandao e poi finiamo col capitolo Mr. Olimpia tra l'altro sta bene rasato Nick Walker comunque fatemi sapere che ne pensate anche di Big Rami buona grazie a tutti